Onorevole Fabri. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 15. La votazione è aperta. Ci siamo? Pilozzi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'articolo 16. C'è un solo emendamento. Chiedo all'onorevole Sanna, relatore di maggioranza, il parere. Il parere è contrario. È contrario. Chiedo al Movimento 5 Stelle, onorevole Toninelli. Contrario. Onorevole Sisto. È il 16.2. Contrario. Onorevole Costantino. Onorevole Toninelli, prego. Presidente, avevo indicato l'emendamento sbagliato. Cambio il parere in favorevole. Favorevole. Perfetto. Così rimane. Sisto rimane invece contrario. Onorevole Costantino. Favorevole. Favorevole. Governo. Contrario. Contrario. Lo pongo in votazione il 16.2. Dadone. Contrario Commissione. Contrario Governo. Favorevole 5 Stelle. Contrario Forza Italia. Contrario Sinistra Italiana. Votazione aperta. Contrario. 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 Contrario.